Allora ragazzi dovremmo essere già in live dovremmo Allora ragazzi oggi perchè ho deciso di portarvi Clash Allora aspettate un attimo che devo mettere un attimo la live Allora aspettate Ok allora ragazzi sono in live su Clash Perchè mi era venuta voglia di giocare a Clash E vi dirò non avevo nemmeno tanta voglia di fare la live dalla play E quindi ho detto vabbè facciamola su Clash Visto che ho la torre Cioè sono arrivato quasi a 50.000 quindi la torre arriverà a 13 Allora ragazzi per ora il mio deck è questo Solo che spesso cambio il goblin Ad esempio ho provato i pipistrelli La furia Gli spaccamuro Ho provato varie carte però Non lo so È un po' difficile salire Soprattutto se le carte sono a 12 e non a 14 Però vabbè Comunque io vi dirò prima di fare alcune partite Perchè faremo partite normali visto che qui già ho fatto tutto Io qui devo ancora perdere E io direi giochiamo Vediamo come va sperando di non perdere Perchè potremmo prendere anche questi 2005 Anzi se riusciamo prendiamo pure quel bel baule E vediamo Allora Io partirei subito Barbari Teniamo la scarica Nel caso butta Lo facciamo così Ok Buono Facciamo un po' di danni se riusciamo Pochi pochi ma Aia Questo dovrebbe essere un problema Ok buono 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 Mi sembra abbastanza difficile questa partita Vi dirò Per ora aspettiamo Per ora Io li proverei di nuovo Però sicuramente Aspettate Ecco Fa niente fa niente fa niente Vai Non importa non importa Aspettate Buono buono Dai Ah cazzo Bella difesa Si è salvato Si è salvato Si è salvato perchè ha messo in fretta il Il come si chiama Il cavaliere Dovrebbe essere il cavaliere Ha avuto fortuna va bene Ok Ok Andiamo Vabbè non importa Vai vabbè Ok Let's do Cazzo Forse era meglio la scarica prima Vabbè No Non ci credo Vai Vabbè 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 Eh lo sapevo Questa probabilmente la perdo Molto probabile Ha una bella difesa lui Vabbè questi sono morti Vai così Vai così Ok Niente Cazzo Quanto li odio Ste merda Ecco là Persa Eh vabbè raga Venti Che palle C'è C'è Impossibile No ma Possibile raga Difende Attacca Vabbè questa già era persa Ma si capiva Impossibile Provano a fare così No ma è impossibile raga Cioè Credetemi Poi fanno pochi danni i barbari Ma non si può mai vincere Perché fu difesa Sua Bene Manca un colpo Siamo crappati Cioè vedete È Infattibile È Infattibile Abbiamo perso GG Let's go Che culo Sì raga ma non si passa Non si passa È persa Infatti Vabbè raga ma quando becchi il deck counter Cioè Come fai Come fai Cioè Impossibile Vabbè persa Boh Vabbè Ci sta Ci sta Eh era impossibile raga Era impossibile Vabbè non importa Erano pure pochi Cioè erano poche le monete che dava Ecco ad esempio con 500 Beh oddio 30.000 Baule magico Ma per male non sarebbe Non lo so Un po' mi tenta Però Però Vi dirò Sinceramente Prefisco più shoppare le motte Infatti Ho alcune motte nuove Allora io Allora Qui abbiamo finito Allora Proverei a fare Una partita Giusto per avere Un altro baule Ora secondo me è impossibile avanzare Con il deck così Oh buono Dai Un altro Buono Ok Questo lo togliamo così Ahia Eh no Non togli un cazzo così Sbagliato Vabbè 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 Ok Oh questi sono danni Se riesco Eh vabbè Abbastanza Abbastanza Vabbè C'ha il deck Il 2.6 Cioè C'è solo questo Aia Cazzo Questi sono danni No questo mi ha buttato Poi giù la torre Porca troia Vabbè Vabbè Ecco la torre infernale Dai Buono Buono Un'altra Ottimo Ora aspetto Che Metta Dai Quando lo metti Cioè quando lo metti Eccolo qua Vabbè L'ho messa lì Vabbè A caso L'ho messa lì Vabbè Già so dove mettere Barbary Ora Let's go Vabbè Abbandonato Mi sa Vabbè dai Prendiamoci 2 e 3 Let's go Ok Cioè vedete Non è proprio male Però Dipende Cioè dipende Dal deck Che becchi Paolo ed oro Vabbè Ma Ok Allora ragazzi Io vi dico Allora per arrivare Alla torre Livello 13 Dobbiamo livellare Qualche carta Quindi io livello Qualche carta Che a me Non interessa Allora vediamo C'ho qualcosa Uh Questo ad 8 Buono 200 Buono Poi qualcosa Al 9 Non lo so Vediamo Questi Che dite Quanto mi da Se lo faccio 400 Ok Arriviamo A Ok Non lo so Sto vedendo Perché potrebbe Esserci Qualche carta Che mi interessa Di più Io porterei Lui Però Nessuno Me la Me la cambia La carta A parte Non ce la faccio Ah no Eh no Non ce la faccio Vabbè raga Uno a caso Lui quanto fa Di danno Ma si Dai Ed ecco qua Vai Let's go Ah Il nuovo livello Ok Ok Chiudi Va bene Aspettate Ma che è successo Ah no Ok Pensavo fosse successo qualcosa Ok Ci abbiamo anche Il baule Baule Ok Bel 13 Però Raga Beh Non fanno male Non fanno male Questi Questi sono buoni Questi sono buoni Io penso Mi droppa Seggioli Invece no Scintilla Va bene Ah ce l'ho anche Va bene Ragazzi aspetto Questo livello Quanto ci vuole 80.000 Eh minchia Beh non sarà semplice Allora Io direi Continuiamo Anzi Fatemi dire un attimo Una cosa Registro attività No Scusate Dove era Qui Il mio record Di questa stagione È stato 5524 Beh Non è Non è poco Superarlo Secondo me È un po' Complicato Non lo so Vabbè Vediamo Allora Però vedete Come deck Non è male Solo che crepano Subito Essendo carte Da due Elisir Ed è difficile Attaccare Quello è il problema Per questo Stavo pensando Più di mettere Il 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 Tomatore Almeno Fa danno Pfff Agia Buono Buono Vai Let's go Ma stai Fermo Vai Mamma mia Bella Bella Vabbè Questa è nostra Però Bel deck Vi dirò Non è male Oh 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 No ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Ragazzi Ho sbagliato Ho sbagliato Vabbè Vabbè Ci siamo salvati Ho sbagliato Però lì Spirito Giusto per Buttare giù La torre Let's go Let's go Il cannone Vedete Ce l'ho anche Adorato L'ho portato A tre Stille Allora Qui Difenderei Onestamente Vediamo Non si vede Non mettiamo Una valchiria Secondo me Ha quittato Vabbè No Non credo Facciamo così Ma sembra Che Sì Ha quittato Vabbè Buono per noi Buono per noi Dai Un'altra vittoria Tutti che quittano Non so perché Forse perché Ha le carte Di livello Più basso Non lo so Vabbè Vabbè Let's go Che poi sapete cosa Ecco Se io lì Non avessi avuto I goblin Ma avessi avuto I pipistrelli Io lì Ce sarei morto Però ecco Ad esempio Se Magari Un player Non so C'è il tronco Ecco Mi sciotta I goblin Ma non mi sciotta I pipistrelli È un po' strana Sta roba Un po' strana E beh Qui ci vado Proprio duro Vai Cazzo Cazzo Vabbè 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 Buttiamo Eh no raga C'è inculati Alla grande C'è inculati Madonna C'è inculati proprio Sì vabbè Però c'è tutto Al 14 C'è per stare A sto livello Può dire che Sei scarso C'è la tronco C'è la tronco a 14 Tutta la carta A 14 Dai Ok Qualche danno È entrato Minchia Beh Vai ora Dai Ok Una hit è entrata Ma io vi dirò Ma io qua posso Anche fa così Dovrebbe andare Lo stesso Bene C'è inculati Alla grande Che gioco di merda Veramente Che gioco di merda Eccola Aspetta Ah che palla Questa ce l'ha buttata giù Dai stoppala Ottimo Scontato Va bene Maialini No vabbè Ciao Dovrei Dovrei fermarlo Eh sì Infatti Bene o male L'ho fermato Io ce l'ho un'idea Ma è rischiusa Vabbè Proviamo Uno Vai Buono Ci è andata D'addio Dai Ottimo Ecco Questo non ci volevo Per esempio Vedo Avremo a shottarmi tutti GG Let's go Dai 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 No Porca E nientra È tosto Non c'ha tutte le carte A 14 Dai GG Sì ma è impossibile Con lo strigone Dai 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 niente, niente da fare, raga io ci provo, so che sto facendo una cazzata ma vivo ora 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 ti prego niente, buona buona sta hip, buona ecca la, te la arriva? no raga c'ha la sera di proprio il culo, eh vabbè, si raga ma tutto a 14, ma una come fa? cioè è impossibile onestamente boh vabbè, come non detto aspettate le campane, vabbè cioè è impossibile boh, so manco che mettere qua vi dirò ecco proviamo buono col gigante lì aspetta aspetta ok, ottimo questo è sempre so che, no vabbè, questo mi mette la furia no, ora ci vuole aspettare che ti piazzo il gigante con la strega oh, cambio vabbè vabbè vabbè, danni zero zero cg comunque i goblin fanno pochi danni, però sono buoni come isca, diciamo questo lo facciamo andare un po' qua se riesco no, non ci credo, ma no che cosa è successo vai eh no raga, mi ha fattuto vabbè, vabbè, vabbè c'è raga, ma c'ha tutta la carta c'è, pure questo c'ha la carta a 14 c'è assurdo bam bella bella picconata ingiocabile c'è, perché stidecca assurdo, c'è vai ora diamo dai niente, c'è bato dai, 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 ottimo mamma mia, la sera la donna ah, dolore dolore vabbè vediamo se ce la fa che potrebbe anche farcela non ho detto che ce la faccia sto giocando un culo alla fine vabbè, ma penso che ce la fa però poteva per come stava andando la partita poteva poteva anche farcela poteva allora raga, però vi dirò non so se la live la farò di nulla perché cioè non lo so stiamo in live da 20 minuti non lo so cioè mi piacerebbe pure però diciamo che questo facciamo una cosa più che una live o più che una live facciamo una cosa questo era più come se fosse un video per youtube quindi mezz'ora secondo me è fattibile ahia perché raga un'ora sinceramente poi non ho contenuto da portare secondo me ci vuole pure stare ecco vedete guardate qua che difesa cioè questa difesa fa paura bella vabbè però ecco inculato tpfo bam cioè perché fare un non lo so un'ora mi sembra un po' inutile però giustamente se ci sono contenuti perché no bella oh eccolo ecco questo ad esempio fa male questo ad esempio fa male ma non mi prenderà uh mamma mia mi ha dato proprio la carne da macello gg mettiamo i goblin di qua facciamo un po' di danni sia a destra che a sinistra va bene bella bella giocata dai bella giocata però forse li mette anche lui i barbari però non credo invece si dai metterà no uh what andiamo let's go let's go eh vabbè vabbè si è arreso capito ah no non si è arreso e ora si arrenderà cioè su vabbè però comunque mancano vabbè facciamo così non credo che ci contrasterà più ah no insiste insiste proprio bene come vuoi non capisco se suoi giocati wow mi hai tolto una torre ma io te la ho buttata tutta giù cioè non è che non so io ho buttato giù una torre e poi quella centrale no te ho buttato giù tutte le torre ok qua abbiamo ripreso i soldi che avevamo vedete non è male come Dec anzi fatemi vedere un po' il registro il registro l'attività tipo vabbè le abbiamo vinte ecco questa l'abbiamo persa ma era impossibile da counterare un deck del genere poi comunque c'è sta un bel po' di alesir questa vinta vinta persa vabbè questa vabbè però l'ho persa lì ecco tipo qua ho usato vabbè no questo è il mio deck da war ecco qua 3 a 0 qua vabbè l'ho persa al tronco qua ho messo la palla di neve qua la furia qua di nuovo la furia qua stregone di ghiaccio cioè però ho perso alcune vedete però vedete anche il il minatore non è malaccio ma queste con il boia le ho persi tutte assurdo ecco pipistrelli 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 cioè vedete i pipistrelli non sono malacci quanto perché ho messo l'ucostro con elettro vabbè finita sì facciamone un'altra allora devo stare alla live più breve di sempre la farò di mezz'ora perché veramente vi giuro non so che portare cioè comunque la la partita cioè non so che portarvi nel senso proprio quello di ok di contenuti dai ti prego si si uccidi venili pure dai let's go mamma mia raga devastato guarda bella giocata fra ti giuro bellissima grazie mamma mia devastato proprio sì vabbè mi strava il livello 7 ma che cazzo cioè capito che ci metti 20 anni per buttarmi più let's go vabbè no sense vabbè sembra c'è carte proprio di livello basso sto tizio ma come ha fatto a salire secondo me ha sbagliato deg cioè perché non ha senso cioè ma ha toccato minimamente cioè oddio con con come si chiamano i tizi che corrono sì probabilmente mi toccherebbe però io vi dirò io gli vorrei togliere proprio la torre centrale ma no facciamo così gli tolgo prima questa e poi quella no grazie vabbè è stato un piacere oh i system oh grande grande vabbè no sense c'è la parte stupida che ho mai fatto mi giuro vabbè raga facciamo l'ultima sì voglio fare l'ultima dai diciamo che sarà più un contenuto così a caso però vabbè comunque questo andrà pure su su youtube vediamo aspetta 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 no vabbè questo mi sa che l'ho perso aspettate se riesco no facciamo una cosa ecco meglio così meglio così ok vabbè sono pochi danni eh minchie pochi danni niente idea no 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 si mettiamo mettiamo lei evitiamo vabbè comunque c'ha la torre a 14 forse era meglio conservare ecco te la riva cazzo vai bello bello giocato ti prego niente troppo tardi però ok mi culo frano il culo godo forse riesco si gliel'ho buttata giù vabbè anche lui me l'ha buttata giù qui ecco ora prova di qua che giustamente l'ha andata male mamma mia qua ti guai let's go bella bella giocata vediamo se riusciamo a fare qualcosa niente completamente niente cazzo ho sbagliato come si è che ho sbagliato aspetta no 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 zitti zitti bella bella ti prego madonna orgia di barbari no madonna io madonna vabbè vabbè raga nulla è stata una live breve di solito non le faccio così brevi però vi giuro veramente non so chi portarvi cioè forse era meglio conservarle queste guerre le potevamo fare in live vabbè qui non ho nulla qua nulla qua vabbè nulla aspettate vediamo no nulla questo tra quattro giorni no raga nulla proprio zero 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 spaccato vabbè nulla raga ci vediamo domani raga domani fortnite probabilmente fortnite quindi nulla raga ci vediamo domani un abbraccio un bacione e ciao a tutti